Tiago Motta è dunque il nuovo allenatore dello Spezia, l'ex centrocampista di Paris Saint-Germain e Barcellona e Inter è stato presentato questo pomeriggio al Ferdeghini insieme al direttore sportivo Peccini. Tiago Motta cosa l'ha convinta ad accettare il progetto Spezia? Guarda, con la conversazione con le persone, con il club, con il direttore Riccardo, con altre persone al club penso che è una sfida o mi hanno dimostrato di voler affrontare questa sfida con grande motivazione con grande impegno, con responsabilità, serietà e penso che sia stata la scelta giusta e affronteremo sicuramente una stagione con delle difficoltà perché il calcio non è mai una cosa semplice però le affronteremo con grande motivazione, le affronteremo con grande entusiasmo, le affronteremo con grande voglia e con una voglia enorme di affrontare queste partite che arriveranno. Quanto vedremo in campo del Tiago Motta che vedevamo quando era giocatore? Sono due cose diverse, penso che oggi sono molto concentrato, come ho parlato prima, che le squadre possano entrare in campo che la nostra squadra possa entrare in campo sapendo sempre la importanza del collettivo la importanza di ognuno avere la sua responsabilità per il bene delle squadre e vedremo piano piano quanto saremo capaci di portare queste squadre in avanti.